Il titolo la democrazia dei signori è apparentemente contraddittorio perché per democrazia si intende il governo o addirittura la prevalenza, il predominio popolare, cioè della parte di un paese meno abbiente, meno ricca e abitualmente meno potente. I signori sono esatto contrario. Come mai queste due cose possono stare insieme? Studiando la vicenda politica e sociale del nostro paese, non solo del nostro paese, si può osservare effettivamente il verificarsi sempre più chiaro di questo fenomeno. Gli studiosi hanno pensato anche molto tempo addietro che in ultima analisi comandano sempre le classi alte, però la nostra Costituzione suggerisce fortemente il contrario. Il processo si è determinato per una ragione che cioè l'opposizione sociale, la rivendicazione sociale dei diritti dei meno abbienti è ormai soltanto nelle mani del sindacato o dei sindacati. I partiti politici hanno abdicato a tale funzione, specialmente i partiti tradizionalmente di sinistra, cioè che avevano a cuore quei problemi, quegli interessi. Il tutto è oggi in mano ad una leadership politica piovuta dall'alto. Un Presidente del Consiglio nominato dal Presidente della Repubblica indipendentemente dai partiti, il quale ha di fatto creato una situazione costituzionale assolutamente inedita ai limiti della legalità costituzionale dal punto di vista delle procedure e anche dell'amministrazione, perché governa per decreti legge, il Parlamento ratifica e quindi l'esecutivo è diventato anche legislativo. Tutto questo ci sconcerta. È interessante però il fatto che la persona alla quale è stato affidato tale compito, avendo una buona formazione scientifica, economica, eccetera, e soprattutto l'uomo di fiducia delle autorità europee, bancarie e politiche europee. Noi siamo dentro l'Unione Europea, è ragionevole pensare di uscirne all'improvviso, e siamo all'interno di questa Unione particolarmente in difficoltà per il gigantesco debito pubblico che abbiamo e che si è ingigantito ancora di più nei due anni di questa malattia terribile che ci sta vessando. Allora, il problema vero all'ordine del giorno, non soltanto da noi, qual è? Cosa fare di questo gigantesco debito pubblico che per l'Italia è un caso limite, ma non è che la Francia se la passi tanto meglio? Potremmo portare altri esempi. Allora, il presidente del Consiglio attuale nostro, che si chiama Mario Draghi, ha fatto capire chiaramente che il suo proposito è di ricontrattare, rinegoziare con le autorità europee esattamente il problema del debito, cioè riformare i parametri. Allora, mentre ha determinato un regime extra parlamentare, diciamo così, nel nostro paese, ha anche prospettato una positiva iniziativa, se avrà fortuna, perché egli non è ovviamente il dominus di tutta l'Unione europea, però conta molto. Allora, dinanzi a questa situazione descriviamo la realtà politica come molto deludente e temo per un lunghissimo periodo ancora davanti a noi, l'azzeramento dei partiti politici, quali che siano i loro capricci estemporanei, ma al tempo stesso il problema dei problemi, cioè cosa fare del nostro futuro economico stante la difficoltà enorme nella quale ci troviamo. Questo è il succo del libro.